Pronto già da qualche giorno il Covid Hospital, l'ospedale del G8, riadattato per le nuove esigenze. Dopo l'inaugurazione sono arrivati già i primi pazienti. L'ospedale, fortunatamente per l'Aquila, ha iniziato la sua attività ospitando i primi tre pazienti provenienti da Vezzano, Pescara e Castel di Sangro. Nessun caso autottono dunque in città. 6 i posti letto disponibili di terapia intensiva. Probabilmente si aprirà pure una sala operatoria per i malati di coronavirus. La volontà è quella di portare nell'ospedale per il Covid a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria, assistenza e terapia semi-intensiva. L'ospedale in questione, dopo la benedizione alla presenza delle autorità e dei medici, ha ospitato pure la prima operazione, il parto di una ragazza marzicana che era stata portata lì per un sospetto. Poi, fortunatamente, il tampone ha risultato essere negativo e il parto cesareo è andato bene. Molto importante in questa fase per l'allestimento dell'ospedale è stata la solidarietà. Dompe e Sanofia Ventis hanno donato mascherine e altro materiale. Lance e i commercialisti hanno fatto le loro donazioni, come pure i privati cittadini, che danno a varie associazioni che poi dirottano i fondi per l'ospedale. Il commissario di polizia, Piero Bianchi, ha donato per esempio un piccolo frigo per la conservazione dei medicinali al G8 e tanti stanno seguendo il suo esempio. Accanto a questo proseguono i lavori per il triage di malattie infettive, una nuova struttura all'esterno collegata con l'interno, che permetterà di fare i tamponi ai sospetti evitando il passaggio in pronto soccorso, non avendo così rischi di contaminazioni. Il tanto il comune dell'Aquila ha messo a disposizione degli alloggi vuoti del progetto case per gli operatori sanitari, in modo da facilitare gli spostamenti e le reperibilità, stessa cosa fatta dal comune di Torni in parte.